Nessun amichevole a Lasco in Slovenia per l'Allianz Pallacanesto Trieste. Dopo lo screening di tamponi anti-Covid, un giocatore ha risultato positivo. Tutti a casa e sospesi anche gli allenamenti. L'amichevole in vista della preparazione alla prossima stagione contro lo Zlatoro è stata annullata. Venerdì un giocatore dell'Allianz ha manifestato perdita del gusto, classico sintomo da Covid. Nella mattinata di ieri l'esito positivo del tampone, mentre il resto della squadra al momento non registra positività. È la stessa società in una nota a informare dell'accaduto. L'esito dei tamponi molecolari effettuati ha evidenziato la positività al Covid-19 di un giocatore che già venerdì pomeriggio aveva evidenziato un malessere compatibile al sintomo del virus, si legge nel comunicato. I tamponi di tutti gli altri giocatori e membri dello staff hanno dato esito negativo. Ulteriori test molecolari verranno effettuati giornalmente. Attualmente le condizioni di salute del giocatore positivo al virus sono buone. Fino agli esiti dei tamponi molecolari di domani mattina, conclude la nota, la società ha precauzionalmente sospeso gli allenamenti.